Ups a tutti, miei cari upsini, upsine, come state? Spero bene, dai. Io anche mi sono un attimino ripreso che quest'ultima settimana non sono stato tanto bene, infatti ho ancora una tosse diciamo abbastanza prepotente, però non ci importa. Allora, cosa faremo oggi? Un video molto semplice, nulla di che, però molto molto rilassante, ve lo prometto. Perciò, indossate un paio di cuffie o auricolari. Stendetevi, stendetevi sul vostro letto. Chiudete gli occhi, dai. Ok. Allora, cosa faremo oggi? Faremo un po' di visual trigger. Per esempio, un po' di brushing. Un po' di brushing. Un po' di brushing. Un po' di brushing. Rilassati. Adesso scacciamo via tutti i pensieri negativi, dai. Tu concentrati sul movimento del pennello e rilassati. Ok. Adesso lo posiamo perché lo prendiamo poi dopo. Allora, altre cose che devo dirvi. Quest'anno non penso che riuscirò a fare un video speciale natale. Perché lo volevo fare. Avevo un'idea grandiosa. Ma ieri sera ho fatto le prove. Veniva una schifezza assurda. Ho detto assolutamente no. Perciò uscirà questo video che, come avrete notato, è molto, molto, molto particolare. Molto, molto, molto. Però posso già dirvi che il 5 gennaio, mi sembra, uscirà un video dove parleremo un bel po' dei regali di Natale, dell'andamento del canale, dei buoni propositi per l'anno che sarà appena iniziato. Parleremo un po' insieme. Quindi, non mancate. Non mancate, non mancate, non mancate. Ok, facciamo un po' di.. plugga plugga tab Dapp, 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 dapp tapp 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 Puff, 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 puff. Perfetto. Guardami negli occhi e non muovere lo sguardo. Sshh, sshh, sshh. Perfetto. 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 Adesso, ok, cosa possiamo fare? Facciamo qualche altro giochino interattivo. Guarda il mio dito, guarda proprio la punta del mio dito, guarda la punta del mio dito. La allontaniamo, piano, 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 e puff, è sparita. Facciamo la stessa cosa con l'altra mano. Perciò guarda il mio dito, guarda che si allontana, si allontana, e puff, è sparita. Lo avviciniamo, lo avviciniamo, lo avviciniamo, lo avviciniamo, e puff, è comparso. La stessa cosa. Avviciniamo, 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 e puff, è comparso. Rilassati. Buttiamo via tutti questi pensieri negativi che non ci servono, non ci servono. Non ci servono, non ci servono, non ci servono. 不好 Abiginiamo. Prossori, appi.. Vigilposa, appi.. Vigilposa.. Vigilpi... Prossori, mittos, ma... Probabiliamo fino alla più di fronte, mucha broma età, il nuovo vittimoę, criminalista. Perfetto, perfetto. Buonanotte, mi raccomando, chiudi gli occhi e adesso ti farò un piccolo massaggio al viso, tu chiudi gli occhi, che magari puoi riuscire anche ad addormentarti. Perfetto, facciamo un massaggio sotto gli occhi, alla fronte, alle guance, facciamo un massaggio alle guance. Alle guance, alle guance, alla bocca e al vento, facciamo un piccolo massaggio per così, ritorniamo sotto gli occhi. Rilassati, mi raccomando. Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. Swish, swoish. Swish, swoosh. Non lo so come noi, mi piace farlo. Lo riappoggiamo. Ok, allora, allora, dobbiamo adesso un attimino capire e vedere cosa vale. Perfetto, così. Glamp, 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 glamp. Zacca. Prendiamo Clamp, 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 clamp Zacc Via Tutti i brutti pensieri Ok Ok Facciamo un altro po' di brush Semplice Per così Senza Senza niente di troppo strano Perfetto A me rilassa veramente tanto il brushing E nulla Sentite che sono che panno le mani Dai con le mani Belle morbide adesso Ok dai Allora come ti senti? Tutto a posto Tutto a posto Tico scusate mi sto attormentando io adesso vi do qualche bacio dai ok allora chiudi gli occhi giù gli occhi giù gli occhi voglio proprio vederli chiusi perché è arrivato il momento di darti la buonanotte quindi mi raccomando mantieni gli occhi chiusi perché adesso tocca a te tocca 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 iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto usando il tasto iscriviti qua sotto lascia un bel mi piace e un commento mi raccomando non abbiate paura di scrivere i miei commenti sono sempre accettati e fanno anche piacere da ricevere potete veramente migliorare lo stato d'animo di una persona con un bel commento quindi mi raccomando non spaventatevi non abbiate paura inoltre il video di oggi finisce qui ma se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio di qua il mio video precedente di qua una mia playlist e qui il tasto per andare sul mio canale vedere qualunque video tu vorrai perciò mi raccomando adesso chiudi gli occhi cerca di addormentarti cerca di addormentarti io ti mando un grande bacio ti auguro ancora la buonanotte buonanotte Buonanotte